bentornati a tutti ragazzi oggi andremo a vedere la quarta sfida negli scontri clestalizi l'ho già fatta ma la rifacciamo insieme non ha importanza questo è il nostro villaggio un bel pupazzetto di neve grazie a tutti 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 Eccoci qui Dopo aver completato questa sfida Riceveremo Ho già riscosso io quindi non si vedrà Riceveremo una Decorazione Che possiamo trovare qui appunto su decorazioni Perché io l'ho già tolta ma comunque ve la farà sistemare subito Ed eccola qui la decorazione Una slitta un po' così Io preferisco tenere il villaggio pulito Quindi io la rimetto a posto Potete scegliere in qualsiasi momento Se andate su decorazioni Di inserirla o di toglierla Questa è carina Neanche me la ricordavo Bene ragazzi per oggi è tutto Ci rivediamo al prossimo video Ciao Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti.